Replichiamo quelle che sono state le parole dell'assessore perché oltre a non essersi scusata con i genitori per quello che è accaduto ieri, quindi che si sono trovati bambini accompagnati a scuola per il primo giorno dopo la riapertura dalle postelezioni, si sono trovate gli ambienti non puliti, non sanificati e nessuno dell'amministrazione ha pensato bene di chiedere di scusarsi per l'accaduto, in quanto comunque è il comune al quale spetta proprio il comune la responsabilità e quindi la sanificazione e la pulizia degli ambienti dopo la tornata elettorale. Oltre a questo si è cercato comunque di addossare la colpa al personale ausiliario delle scuole, cosa che invece non è loro responsabilità in quanto non sono tenuti obbligatoriamente a sistemare, a ripulire o a sistemare comunque i banchi nelle aule scolastiche. Quindi che cosa andava fatto? La competenza era del comune, quindi nella giornata di martedì, giornata nella quale dovevano occuparsi proprio della pulizia, della sistemazione e della sanificazione degli ambienti, dopo che per mesi abbiamo proprio discusso di quelle che erano le norme per l'apertura delle scuole, ci sembra paradossale che il mercoledì nessuno si sia accorto che gli ambienti non erano stati puliti, non erano stati sanificati, quindi non potevano accoggersi la mattina del mercoledì che era mancata la sanificazione e la pulizia, quando i bambini sono arrivati lì e sono stati lasciati fuori dalle aule per più di un'ora. Se il tempo non fosse stato clemente, quindi ci fosse stata una giornata di pioggia, cosa avrebbero fatto questi bambini?